Non dimenticare la misericordia. Nel cammino di avvicinamento all'anno santo che si aprirà il prossimo 8 dicembre, questa è stata la raccomandazione di Papa Francesco ai Vescovi del Perù, ricevendo il comitato di presidenza della Conferenza Episcopale del Paese Sudamericano, guidata da Monsignor Salvador Pigneiro, arcivescovo di Ajacuccio. Ci ha ricordato e ci ha chiesto di dire ai nostri sacerdoti di non dimenticare la misericordia. Talvolta non possiamo dare la soluzione, ma dobbiamo fare in modo che la persona se ne vada con una tenerezza nell'anima. Dobbiamo essere vicini ai molti che soffrono, dar loro una parola di speranza, un segno di amicizia. La Chiesa è questo, vicinanza, offrire dal cuore di Dio questo affetto, questa preoccupazione per chi soffre. Sul finire del secolo scorso, la guerriglia maoista di Sendero Luminoso, che ha insanguinato per anni il Paese, si è trasformata in un'organizzazione criminale dedita alla droga, che sfrutta anche i bambini per la raccolta delle foglie di coca. I vescovi, da tempo, denunciano il livello allarmante raggiunto in Perù da narcotraffico, corruzione e insicurezza. E non dimenticano il tributo di sangue versato dai frati polacchi Michele Tomashek e Zbigniew Saukowski e dal sacerdote italiano Alessandro Dordi, uccisi nel 91. Abbiamo conosciuto la violenza per più di 20 anni, con molto dolore. Al momento ci sono 16.000 desaparecidos. Io ho proposto pubblicamente, in tre occasioni, che mi si dica dove hanno seppellito i morti. 15 giorni fa sono stato in un villaggio dove hanno decimato la popolazione. I senderisti sono venuti e hanno ucciso le persone con asce e pietre. E sulla porta della chiesa, prega il tuo Dio per vedere se ti ascolta. Hanno detto a questi martiri del nostro tempo, come i tre religiosi che verranno prossimamente beatificati grazie al Santo Padre, con il Cardinale Amato a dicembre. Su impulso di Papa Francesco e della nuova enciclica Laudato Si, i presuli del Perù promuovono il rispetto dell'ambiente, in particolare per la regione dell'Amazzonia peruviana. La difesa del matrimonio cristiano e la promozione della vita umana sono gli altri pilastri della loro azione. In Perù è costata moltissimo. Manifestazioni, comunicati, dibattiti e per fortuna non è passata la legge sull'avorto, né è passato il matrimonio gay. Ma si tratta di temi che sono nell'agenda dei politici e anche alcuni che condividono il pensiero cristiano mi dicono «Monsignore, sono questioni che appartengono ai tempi moderni, bisogna trattarle». La protesta è forse insignificante ma fa rumore. Bisogna continuare a lavorare raddoppiando gli sforzi per proclamare il Vangelo della vita. Per me sarebbe più facile dire di sia al divorzio, sia all'aborto, sia all'amore libero. Ma così si costruirebbe una società di mostri, un ambiente dove non si rispetta la persona, dal concepimento alla fine naturale.